Avevo già sognato un esordio al mondiale con vittoria, diciamo che il premio, seppur bellissimo, è la ciliegina sulla torta, tutto il resto è la cosa più bella. Penso che a partire dalla scorsa Coppa del Monde ci sia stato un crescendo sempre più importante da parte nostra come squadra. La partita pensavamo di poterla portare a casa già da prima di giocarla, nel senso senza mai sottovalutare gli Stati Uniti, nessun avversario, siamo consapevoli che se giochiamo bene, rispettiamo il nostro gioco, possiamo veramente essere pericolosi per qualsiasi altra squadra. Quindi sì, poi in campo diciamo che da subito si è capito che era la nostra portata. Come con gli Stati Uniti dobbiamo aspettarci tanta fisicità, sono delle atlete grosse, anche pesanti, ma che sanno muoversi bene e che sono anche molto veloci. Quindi tanta fisicità senz'altro, ma anche tanti punti di domanda sul gioco al piede, sulle loro fasi statiche, insomma, sono una squadra abbastanza completa, non a caso sono molto alte nel ranking. Sarà una partita molto dura, ma diciamo che, come ho già detto prima, se riusciamo a impostare il nostro gioco e a non farci prendere da quello che è il loro gioco, quindi per linee dirette, ma cercare di evadere, possiamo essere pericolosi anche per loro. Senza crearci aspettative magari esagerate, però vogliamo provare a vincere tutte le partite che riusciamo, quindi partita dopo partita proviamo a mettere in difficoltà chiunque abbiamo davanti.